I miserabili giurati senza una vita, ignari delle mie... Ed ora io voglio dedicare a lui due righe di una poesia di Alda Merini. Basta vedere qualcosa che rega la tua impronta e noi siamo pieni delle tue impronte, come se tu fossi passato in ogni casa. Che ama rialzarsi, che è ferita e tante volte calpestata, deve piangere tanti... Qual è il senso di una Alamezia che scende in piazza con le fiaccole purificatrici e cerca una risposta ai tanti perché? Noi siamo qui per padre affettuoso, un avvocato leale e di grande valore professionale. Grazie. 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 Grazie.